Allora ragazzi in questi giorni non ho portato video perché sto preparando lo speciale che uscirà non lo so quando ma uscirà perché siamo a 48 e mancano due iscritti e è un 50 mentre gioco la prestazione tipo adesso devo ogni tanto controllare e devo andando controllare quando iscritti sono i commenti aspettare che arrivo a 50 iscritti per poi farlo speciale che non so ancora cosa devo fare quindi bellissimo e vabbè ciao Ciao Ciao